Senti, ascolti trombone Ma io, ragazzi, non c'è un direttore Ma come il direttore? Voglio parlare dell'importanza del salacino Hai fatto il trombone Ora, questa è l'importanza del salacino Allora, mi raccomando Domani naturalmente ci sarà il nostro carissimo amato salacino Quindi guardate il servizio che andrà in onda Naturalmente speriamo che domani veniate a vedere Sì, va bene, veniate a vedere Ciao Se in Italia c'è una giostra Praticamente l'associamo a Luca Veneri Che saluto, ringrazio di essere venuto Ciao Ciao Buona giornata Hai vinto tante cose, hai corso tante cose Praticamente sei un vecchio volpone del tutto È vero Giusto, però visto che non c'è la giostra del salacino Siamo a ridosso E si sta per correre Io vorrei che tu spiegassi in 30 secondi Che tipo di torneo è a chi ci segue sul web Allora, la giostra del salacino si rifà ai vecchi allenamenti Tornè medievali Ai vecchi allenamenti delle guerre Che facevano i cavalieri nell'area medievale appunto Con lo scontro uomo a uomo Con l'assalto ai mori Quindi infatti il buratto si rifà È un saraceno Esatto Quindi è la guerra contro i saraceni, contro i mori E ci sono documenti che fanno risalire la giosta del salacino di Arezzo Intorno a un'epoca, intorno al 1300 Come storia Poi dopo l'era moderna è ricominciata Mi sembra nel 32, nel 33 Però insomma ecco È un allenamento dei vecchi soldati medievali Prima di tutto voglio fare gli auguri Siamo con lui, con il ragazzo che è caduto da cavallo Che so che si è fatto Purtroppo sì Tutti, ma tutti i quartieri Insomma sono vicini a Federico Perché purtroppo ha avuto un brutto incidente Appunto per montare a cavallo E la sua passione Quest'anno doveva rientrare dopo qualche anno A fare la provaccia per Santo Spirito E purtroppo pochi giorni fa si è fatto male E tutti insomma li siamo vicini E nel esprimere i nostri migliori auguri Anche come redazione Voglio chiedere Che emozioni provi a poche ore dalla giostra? Guarda la giostra ti dico Io partecipo a tutte le giostra in Italia Tu sei un freddo Sei uno freddo Un ghiaccione Sì, va bene No, sono uno che Fortuna mia riesco a rimanere Tranquillo In ogni occasione Insomma Non mi faccio prendere da grosse emozioni Però La giosta del Saracino Io all'inizio l'ho vissuta come tifoso Ho fatto il paggetto per un quartiere E sono cresciuto insomma come quartierista Quindi diciamo che è l'unica manifestazione Che partecipando ancora ho nel cuore insomma qualcosa Sento i musici Le altre ti danno ancora meno emozioni? No, mi danno chiaramente emozione Perché me la fanno vivere innanzitutto I miei tifosi I miei rionali Insomma in genere Di tutte le manifestazioni che partecipo Poi chiaramente è sempre una competizione Quindi Diciamo È l'ora del dunque Che ti fa vedere cosa hai fatto Come hai lavorato durante l'anno Quindi Poi io sono uno che va sempre A cercare la vittoria Non mi piace partecipare Quante ne hai vinte? È intorno a 40 manifestazioni in tutta Italia È un bel curriculum È un bel curriculum Sì E previsioni per questa te la senti di farle? Stai alta con l'inquadratura perché si tocca sotto Che ci si gratta Previsioni Io le previsioni le faccio tutti gli anni Sinceramente arriviamo sempre pronti per la vittoria Purtroppo ultimamente non siamo un quartiere molto fortunato E ti posso garantire che siamo pronti Determinati Abbiamo lavorato tanto I cavalli vanno bene Io e Daniele siamo veramente affiatati E credo che siamo Siamo una coppia Molto competitiva Poi mi piace perché sei uno che Pur essendo una persona importante Non miri molto in alto Anche perché prenderesti due Capito? In bocca al lupo C'è anche l'uno In bocca al lupo Crefi grazie Grazie a tutti